Plauso alle forze dell'ordine da CNA Siracusa, Lotauro, operazione importante, lo Stato c'è. La recente operazione dei carabinieri di Siracusa diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica del Capologo del Doseo che ha sgominato la banda delle cosiddette bombe carta è un segnale forte da parte dello Stato, un messaggio chiaro rivolto a chi crede di poter delinquere impunemente nella nostra città. Lo dichiara Santi Lotauro, Presidente Comunale di CNA Siracusa. L'idea del possesso di un territorio e della possibilità di lanciare messaggi inequivocabili di predominio sulle piazze di spaccio rischiando la vita di persone innocenti con ordini rudimentali e pericolosi piazzati in mezzo alla strada è stata stroncata dall'intervento delle forze dell'ordine e della magistratura, conclude Lotauro. E per questo a loro va il nostro ringraziamento e il plauso da cittadini prima che da imprenditori.